Ciao a tutti amici di Videogame Generation dal vostro Brighius, oggi unboxing speciale andremo a vedere la nuova console ammiraglia di Microsoft, la nuovissima Xbox Series X. Dal vivo è veramente molto bella ed elegante e anche un po' pesantina. Sopra abbiamo la ventola con i fori che fa l'effetto camino per espellere il calore dall'interno della console. Sul fondo troviamo l'antiscivolo per tenerla in verticale, ma sul lato abbiamo anche 4 piedini in gomma antiscivolo per poter posizionare la console in orizzontale, anche se in verticale è decisamente più bella. Sul pannello frontale troveremo il tasto di accensione, il vano disco e il tasto per espellere il disco, il tasto di sincronizzazione pad e una porta USB. Sul pannello posteriore invece troviamo l'attacco alimentazione e l'HDMI out, lo slot di espansione per la memoria con l'SSD dedicato, l'attacco LAN e due porte USB. Nella scatola degli accessori troveremo un cavo HDMI, il cavo di alimentazione e il pad con le pile. La crescita direzionale ricorda quella del pad Xbox One Elite e al centro hanno aggiunto il tasto share per condividere sui vostri social le vostre clip e i vostri screenshot di gioco. Sul posteriore troveremo l'attacco USB-C e il vano batterie con le pile estraibili, quindi potremo utilizzare sia pile ricaricabili che non. Sull'impugnatura avremo una trama zigrinata per migliorare la presa sul pad. Questa trama la troveremo anche sui grilletti dorsali. Bene ragazzi, l'unboxing finisce qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di seguirci sui nostri social e iscrivervi al canale. Da Briggs è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.